Buongiorno a tutti, oggi sono qui per parlarvi di Maestro, una web app che permette di creare delle timeline con la possibilità di geolocalizzarle. Maestro è appunto una web app che ci permette di utilizzarlo in modo personale per affari e per l'educazione. Io andrò a utilizzare il metodo personale, quindi farò il mio login tramite Google, per account Google. Una volta all'interno di Maestro avrò la schermata Home, Me, Friends, che sono le storie che dei miei amici, nella lista dei miei amici. L'Explore ci permette di guardare varie storie e timeline molto popolari all'interno di questo sito, quindi è una cosa mondiale. E 3D Battles possiamo andare a guardare semplicemente altre timeline, però ad esempio delle storie create su cartoni animati o qualsiasi altra timeline possibile. Io andrò a cliccare Me, Me, e andrò a creare un nuovo evento. Metterò come nome dell'evento prova. Anche qui potrò scegliere il carattere e per tutto posso creare un collegamento tramite un URL direttamente dal web, ma io questo non lo faccio. Possiamo aggiungere una data, possiamo aggiungere delle foto e qui possiamo cliccare su su ricerca, per esempio Udine. E in questa maniera posso localizzare e mettere all'interno il... insomma alla nostra localizzazione. In questo riquadro io posso aggiungere dei tag risposti uno di seguito all'altro con una virgola, che possono descrivere al meglio la storia che voglio raccontare. Una volta finita la mia storia, la mia timeline, posso appunto salvarla e andare al semplicemente a riguardarla. Maestro appunto ci permette di, oltre a creare, farsi degli amici in giro per il mondo e riuscire a guardare le loro storie in modo veloce e a portata di un click. Quindi si possono conoscere più culture in modo divertente e facile. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.